Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi mi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che sono. Poiché invece non siete del mondo, ma io voglio scelti dal mondo, per questo io il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto, il servo non è più, non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Grazie a tutti.